La velocità, anche il fuoco veloce, questa forza non può essere sostenuta, anche molto lontano ci sono solo due le dita, lontano, senti, adesso tu sei comodo, adesso il fuoco giù in C, la forza della terra torna e ti spinge lì. Quindi, portarci in C, caricare la forza della terra e uscire le dita per spinge lì via. Appena tocca, appena tocca, l'effetto si manopesta, si fanno sollevati e spingi via. Senti? Senti? Però questo è un movimento che abbiamo fatto per l'amico. In realtà, quando si applica, all'effetto, non mi attacchi, non mi attacchi, non mi attacchi, non mi attacchi. Adesso mi mi incrodo senza far vedere il rispetto, praticamente la spinta è di spinta. Senti? 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 Se lui invece è forte, viene buttato dietro. Ma non è un altro caso, quando decine poi il polpire. Perché è questo, perché non è una forza fisica. Se uso la forza fisica è possibile. Uso la forza della terra. Questa è una forza intelligente. Ok, prossimo esercizio.